Ciao a tutti amici neroazzurri, bentornati sul canale, bentornati su Filippo Tramontana TV, oggi stamattina sono in trasferta quindi purtroppo non la qualità d'immagine non è granché, anzi tiriamo su anche il finestrino perché sennò sentono tutti i rumori fuori, la qualità d'immagine non è granché, la qualità audio non sarà granché, mi dispiace ragazzi oggi va così, non avevo purtroppo alternative, comunque vi ricordo che ci vediamo stasera dalle 20.30 alle 23.30 a diretta stadio, mi raccomando, su 7 gold, top calcio 24, quindi mi raccomando non mancate, allora ragazzi oggi si ripopola un po' a piano in vista della parola con il Monza, torna i nazionali, torna Turam, torna Ciala, torna Arnautovic, tornano i nazionali italiani, è tornato ovviamente anche Barella dopo l'operazione al naso, ci avviciniamo a Monza Inter e cominceremo a vedere il turnover di Simone Inzaghi perché insomma diciamo che il periodo comincia a farsi tosto, comincia a farsi difficile, comincia a farsi impegnativo a livello di fatiche, quindi è ovvio che vedremo da parte di Inzaghi tanto giro dei giocatori, ecco quindi quello ce lo aspettiamo, sono molto curioso di capire che tipo di giro farà Simone Inzaghi. Dovrebbe essere il turno di Zielinski, quindi oggi il video sarà incentrato un po' sul turnover ma soprattutto su due figure particolari o comunque importanti del centrocampo dell'Inter, una riguarda Frattesi di cui però abbiamo già parlato ampiamente più di una volta, quindi ci torniamo giusto il tempo di un commento veloce e di Piotr Zielinski. È un acquisto quello del polacco passato un pochino in sordina ma in realtà l'Inter ha comprato o comunque ha ingaggiato a parametro zero secondo me uno dei centrocampisti più forti in Italia negli ultimi dieci anni. Perché dico negli ultimi dieci anni? Perché Zielinski è esploso già nel periodo dell'Udinese, è diventato Zielinski all'Udinese, tanto è vero che poi le grandi squadre sono accorti di lui, lo ha preso il Napoli che ha fatto un grande investimento per Zielinski. Zielinski è diventato una colonna della società di De Laurentiis, è diventato un giocatore fondamentale, importante, con Napoli ha ottenuto grandissimi traguardi perché non c'è solo da pensare allo scudetto di due anni fa, c'è dell'anno scorso, non quello di questo qua dell'Inter, ma quello dell'anno prima dell'anno scorso, ma c'è da pensare anche a tutti i traguardi che il Napoli ha raggiunto in questi anni, quindi al di là dei quarti di Champions League ha raggiunto comunque sempre la qualificazione in Champions, tanti piazzamenti importanti, belle figure in Europa, quindi insomma stiamo parlando di un giocatore che ha fatto le fortune del Napoli. L'Inter si è assicurata, questo giocatore ha parametro zero, nel pieno dei suoi anni è vero, dopo una stagione sicuramente difficile, sicuramente deludente, però è anche vero che quando parliamo di stagioni deludenti per quanto riguarda Zielinski, vero, perché è stata una brutta stagione quella di Zielinski, tra l'altro che ha iniziato a titolare, poi con tutti i casini, i cambi d'allenatore, finito fuori progetto, lui non firmava il rinnovo del contratto, si era accordato con l'Inter e lo sapevano tutti lì dentro a Napoli, quindi è stato messo ai margini perché non faceva parte del Napoli del futuro e quindi insomma diciamo che ci sono tanti attenuanti per la brutta stagione di Zielinski, diciamo che anche la brutta stagione a Napoli non l'ha vissuta solo Zielinski ma l'ha vissuta praticamente tutta la squadra, quindi i grandi eroi dell'anno prima che hanno vinto lo scudetto con Zielinski hanno, con la stagione scorsa hanno fatto grande fatica, quindi oltre a Zielinski possiamo metterci i Lobotka, i Quarazchelia, possiamo metterci gli Osimen, i Raspadori, i Simeone, i Langhissai, i Di Lorenzo, tutti, tutti, il Napoli è arrivato decimo non per caso, ecco quindi diciamo che, quindi io quando si parla della stagione scorsa di Zielinski la metterei tra parentesi perché come mettiamo tra parentesi, io metterei tra parentesi la stagione del Napoli, se noi andiamo a prendere la stagione del Napoli l'anno scorso allora quelli che hanno giocato nel Napoli l'anno scorso tutti scarsi e sono diventati scarsi da un anno all'altro, l'anno prima erano fenomeni, l'anno dopo scarsi, no è stata una stagione scorta dove non ha reso nessuno e quindi rimango dell'idea e del fatto che Zielinski è uno dei centrocampisti più forti e completi del campionato italiano, ovviamente a parte i nostri che avevamo già, Zielinski è un giocatore di quelli che ti dà la possibilità di valutare e vagliare tante soluzioni perché ha la possibilità di fare più ruoli, tanto è vero che Inzaghi pare l'abbia provato anche come play, Zielinski può fare il play anche se secondo me di quel tipo di ruolo a centrocampo è forse l'ultimo dei suoi ruoli, però può provare a fare il play, fa la mezzala, fa l'interno di centrocampo, può fare l'esterno d'attacco, può fare il trequartista, all'occorrenza può giocare dietro una punta, non trequartista, dietro l'unica punta, all'occorrenza, come si parlava spesso di poter far fare a Mkhitaryan, quindi questo è quello che dico. Poi Zielinski quest'anno ha la possibilità di esplodere completamente, nel senso che si trova in una squadra stracompetitiva che lotta per vincere il secondo scudetto di fila, che lotta per andare fino in fondo in Champions, che giocherà un mondiale per club, quindi è un'opportunità per il polacco per alzare ancora di più il livello della sua carriera. Contro il Monza, Zielinski dovrebbe giocare titolare, bisognerà capire, perché comunque le figure in bilico, come dicevo, sono due, quelle che reclamano più spazio, Zielinski e Frattesi, bisogna capire cosa deciderà di fare Inzaghi nella partita contro il Monza, perché dovrà gestire il turnover per le forze e perché dovrà comunque far giocare anche giocatori importanti come Frattesi e Zielinski, quindi non ci sarà più, non si riproporrà più il live motive dell'anno scorso, quando il centrocampo sapevi già che in qualsiasi partita sarebbe stato composto da Barella, Cellanoglu, Mkhitaryan, se tutti c'erano tutti stavano bene. Adesso le carte andranno mischiate, quindi Frattesi dovrà essere titolare più volte, Zielinski dovrà essere titolare più volte, anche gli altri partiranno dalla fanchina per entrare, chiaro è che poi bisognerà decidere quali partite, chiaro che in questo momento se tutti stanno bene le partite più importanti verranno giocate da Barella, Cellanoglu, Mkhitaryan, su questo non c'è dubbio, però quando c'è Monza Inter Frattesi e Zielinski dovranno giocare. E quindi vediamo, sono molto curioso di capire, vedere le scelte del mister per Monza Inter, anche perché Monza Inter sarà il trampolino, come dicevo, di un periodo molto molto difficile, complicato, lungo, quindi sarà il trampolino per presentarci tre giorni dopo a Manchester per giocare City Inter e altri quattro giorni dopo per giocare il derby di Milano. Sarà un trittico che tra l'altro secondo me un po' spiegherà l'inizio di stagione dell'Inter, perché se l'Inter dovesse uscire con tre risultati positivi e quando dico tre risultati positivi dico due vittorie in campionato e magari un pareggio a Manchester, insomma il segnale sarebbe forte, perché vorrebbe dire che giocando tre partite in sei giorni e vincendone due contro il Monza Monza non è facile, il derby sarebbe il settimo di fila, dai un segnale anche al Milan e poi vai a pareggiare e fare risultato a Manchester, vorrebbe dire ragazzi qua noi siamo non presenti di più, non che se non succeda la cosa diventi particolarmente complicata, partite sono partite non si può vincere sempre, però insomma il mini trittico, il primo trittichino difficile tu ne esci così, due vittorie un pareggio, poi se fai tre vittorie non ne parliamo nemmeno, insomma dai un segnale molto forte. Comunque io vi do la mia possibile formazione per Monza Inter considerando anche che Ciala arriva da un affaticamento muscolare, è andato in nazionale, non ha giocato tutta la partita l'ultima, ne ha giocati 45 di minuti, è uscito nel primo tempo, a fine primo tempo e quindi secondo me Simone Inzaghi potrebbe risparmiarlo in vista della Double City Milan, quindi secondo me Ciala non gioca. Secondo me giocano Bissek, Acerbi e Carlos Augusto, a destra gioca Dumfries, Frattesi, Zielinski, Mkhitaryan, cioè giocano Frattesi e Zielinski insieme, Frattesi al posto di Barella e Zielinski al posto di Ciala, Mkhitaryan, Di Marco, Lautaro, Lautaro dipende, Lautaro dipende come torna dall'Argentina, potrebbe essere Turam, Turam e Taremi, vado così a intuizione, però per me il centrocampo potrebbe essere quello, Frattesi, Zielinski, Mkhitaryan, vi dico ovviamente in base alle sensazioni perché i giocatori devono ancora tornare, Inzaghi li deve ancora allenare e bisogna ancora capire come li vedrà e che tipo di sensazioni avrà anche dalle risposte dei giocatori. Comunque sono molto curioso perché è la prima volta che abbiamo un centrocampo così abbondante, l'anno scorso c'erano Sensi, Klassen, in quei ruoli lì era più difficile vederli in campo titolari. Quest'anno con Frattesi in questa situazione, Zielinski, è che diventa obbligatorio farli giocare, quindi vediamo. Intanto ragazzi io vi saluto da questa trasferta a Novarese, vi ringrazio, vi do appuntamento a più tardi, scusate per il ritardo ma ovviamente ci sono impegni che bisogna in qualche modo rispettare e incastrare un po' tutto. Vi mando un abbraccio, sempre Forza Inter, se vi è piaciuto il video mettete il pollice in su, un like, commentate qua sotto cosa ne pensate di Monza Inter e secondo voi che tipo di turnover farà Simone Inzaghi. iscrivetevi al canale ragazzi che è gratuito se vedete i video e siete sempre qua con me abitualmente e poi attivate la campanella per avere la notifica dei video. Ciao ragazzi, sempre Forza Inter, ci vediamo dopo.